Ciao a tutti ragazzi, come state? Spero bene. Oggi faccio un video riguardante una domanda che mi hanno fatto su TikTok e ho un patino in mano. Per chi non lo sapesse, mi chiamo Giocomasi e sono istruttore di Pattiaggio Freestyle e avevo anche un canale YouTube abbastanza medio piccolo, insomma, che parlava di Pattiaggio Freestyle. Su perché sono tornato a fare video su questo canale, ne parliamo in un altro video. Adesso guardiamo la domanda che mi sta fatta, ovvero, ma posso montare questi try su tutti i pattini? E soprattutto, ma questi? Che try sono? Intanto, se ti può interessare questo video, se sei un appassionato di mondo pattinaggio Freestyle e se vuoi seguire le mie avventure, ti consiglio di iscriverti al canale attivando la campanellina, questo perché mi fa capire che il mio lavoro è apprezzato, quindi mi raccomando. Ora, questo video nasce perché questi try qui sono della linea FR. Faccio una piccola premessa su che tipo di telaio è e le nuove scarpette linea FR sono stesse studiate per poterlo alloggiare sotto la loro scarpetta. Esiste in tre misure, questa è più piccola, 80-68, esiste poi nella misura 84-72 e nella misura XL, ovvero 90-72. Quindi, come potete vedere, ha la prima e la quarta ruota più grande e le due ruote più piccoline centrali, più piccoline, perché sennò non erano più piccoline, diciamo, eh, ma va. Oltretutto, queste due ruote possono essere rockerate in maniera anche asimmetria, che vuol dire che io posso scegliere di abbassare solo la seconda o solo la terza ruota e questo potrebbe essere abbastanza interessante per capire le varie tipologie di rockering. Non so se è il rocker? Beh, il rocker è semplicemente quello classico, la prima e la quarta ruota un po' più alte e fanno un effetto banana. Ora, ma perché dovrei avere un try con una ruota più grande? Beh, perché quando sono sulla funta e sul tac una ruota con diametro maggiore mi rende un po' più agevoli alcuni passi e invece avere quattro ruote mi rende un po' più fluide i passi del pattinaggio quando sono sul flat, rispetto a un tre ruote che è un po' più scattoso. Ora, fatta questa premessa, la domanda che mi è stata fatta Cecilia, ciao Cecilia, come stai? Spero tutto bene. Io a breve nome, spero non t'essi presa, un difetto dico Toscani. Intanto dovrei comunque smettere di fare video a lunedì notte. Questa ruota non cambia, nuovo canale ma le abitudini brutte non le perdo mai. Mannaggia a me. Quindi, dicevamo, mi ha fatto una domanda perché ha visto sotto il micro di Rebecca montato questo delai e lei ha fatto, ma come? Questo delai non va sui nuovi modelli della linea SL? Allora, è vero, infatti non potrebbe andare manco sotto l'Igor. Ora, non ho sotto il try da 84 perché l'ho prestato a Rebecca per delle prove. Però, ti spiego così, come puoi vedere, il try è stato, si vede bene sul tacco, è stato spostato tutto in avanti e incrociando le vite riesce ad utilizzare questo delai. Allora, secondo me il try 80-68 potrebbe essere veramente figo e intelligente per i numeri del 38 in giù. E invece l'84 potrebbe andare dai 39-40 fino al 42. Vantaggi e svantaggi. Come potete vedere, adattarlo a telai non proprietari rende tutto un po' più difficoltoso. In primis perché devo incrociare le vite per poter alloggiare e poi devo per forza buttarlo tutto avanti. Non posso scegliere di buttarlo indietro. Vero che nel passaggio freestyle moderno si pattina con il try spostato leggermente in avanti per avere un controllo punta migliore. Quindi, diciamo che è un compromesso che può essere abbastanza interessante. Occhio però ragazzi, perché questa regolazione può essere fatta solo centrale. Oppure posso inclinare il telaio sull'asse. Quindi mettere magari la ruota davanti leggermente più spostata e la ruota indietro leggermente inclinata. Questo lo posso fare però non posso traslare il taglio completamente a destra e a sinistra. Perché? Perché diciamo che si consiglia di incrociare le viti invece di avere una vite assate su un asse basta. Poi è vero che si può spostare, però è un'operazione un pelo più complicata e diciamo particolare. C'è chi monta questo sistema con la doppia vite. Verissimo, va benissimo. In questo caso il telaio è molto più saldo sotto la scarpetta. E questi try soffrono un po' di spostamenti. Incrociando le viti in meno. Però se avessi le viti spostate su un solo asse ci sta che si vadino ad allentare più facilmente. Se metti due per vite non puoi manco fare nessuna regolazione. Il traio è dritto e basta. Quindi ecco diciamo chi ha un asse centrale sul filo perfetto può provare questi try. Vantaggi? Una punta veramente ottima. Un buon tallone. Le consiglio. Secondo me questi try sono geniali nel misure tipo 38,5. Io questo lo proverai anche con un 39. Infatti Rebecca poi sul nuovo patino proverà questo traio qui con il 39. Perché le misure un po' troppo grandi secondo me rendono la patina con un pelo più legnosa. E si vede, vi lo garantisco. Io sono sempre uno favorevole a far iniziare tutti con i try a 4 lati normali. Quindi il 66 o il 4x80. Eventualmente se uno è tanti anni a usare i tellai e vuole provare qualcosa di diverso e ha magari anche la fortuna di avere per esempio un 39 può provare o un 40. Il 40 è più il numero perfetto. Può provare magari l'84, 72. Quindi facciamo un riassunto di questo video. Questo tellaio si può montare su tutti i pattini. Non vi preoccupate. Ovviamente va montato in puntato tutto in avanti. Non si può mettere centrale. Ma nel freestyle è un vantaggio tra parentesi. Altro modo importante. Per regolarlo esterno o interno. Diciamo che si può fare ma è un compromesso che diventa un po' particolare. Sicurezza per fissarlo con due sole viti, incrociarle per avere un setup un po' più stabile. Altrimenti mettere quattro viti. In quel caso però il pattino è obbligato a stare centrale perché le viti fanno spessori e te lo obbligano centrale. Ma questo tellaio evita alcuni giochi. Quindi chi sta centrale potrebbe essere intelligente ad utilizzare quattro viti. E poi le misure 80 o 84. A me piacente molto l'80, sottovalutato un sacco. Però è un rapporto cortissimo. Cioè 219 mm. Poi una ruota 80 però. Che è una ruota che per una ragazza non è enorme. Però dà un po' di vantaggio. Si sente il minuto di un 84. Cioè una ragazza che parta da un 76 a un 84. Sente veramente tanta differenza sulla ruota. Sicuramente una ruota più piccola è un po' più agile. Ovviamente è leggermente più legnosa. Legnosa nel senso che il 84 è una ruota importante. C'è un telaio ben lungo che sotto un 38 si fa un po' sentire. A me non fa impazzire. Soprattutto ho puntato tanti in avanti. Però ormai il partito freestyle va verso la direzione. Quindi anche lì non so cosa consigliarvi. Io lo sto ancora testando con le mie atlete. Un po' più ora. Sto facendo un po' di prove. Sto sperimentando per la nuova stagione. Che vi devo dire? Su Rebecca non ci ho visto tutta questa differenza. Su tutti i passi molto bene. Su altri passi peggiorata. Quindi è un telaio che come tutte le cose non è solo positivo ma va bilanciato. Il mio consiglio è provarlo. È un costo. Dovreste avere magari compagni che hanno vari telaio e provarli ogni tanto per capirlo. È un telaio che va conosciuto. Quindi non è neanche un telaio che dice. Lo provo un secondo e lo capisco. Se a me ci vuole una settimana. Rebecca lo sta utilizzando una settimana. E comincia ora ad abituarsi. Quindi anche quello è una cosa che serve un po' di tempo. Bene ragazzi io spero che questo vi sia servito Cecilia. Io spero di averti risposto a come montare questo sarà su qualsiasi pattino. Lo puoi montare sotto il micro Delta F. Lo puoi montare sotto qualsiasi modello. Come puoi vedere va su un Igor vecchio. Quindi va su tutti i modelli. Ovviamente con un po' più di compromessi. Se su un Sofia riesco a metterlo anche a centrale. Su un Igor, su un Delta F, su un altro modello di pattini. Devo per forza spostare in avanti. Perché altrimenti la prima ruota tocca nella scarpetta e non mi fa scorrere. Bene ragazzi io spero di aver fatto un video divertente. Spero che vi sia piaciuto questo video. Noi ci vediamo al prossimo video. E ciao ragazzi. E vi aspetto a un prossimo video. Ciao!